Sport e Salute oggi è qui in Vaticano per affermare il diritto allo sport, il diritto allo sport per tutti e di tutti. Siamo onorati e felici di essere protagonisti di Sport for All ma lo facciamo con fatti concreti, non con parole. Portiamo lo sport a scuola per 1.700.000 bambini, portiamo lo sport nei quartieri disagiati attraverso il progetto Quartieri, dallo Zen di Palermo a Ponticelli a Napoli, portiamo lo sport con le società sportive di base per promuovere il concetto di inclusione con 412 progetti in giro per l'Italia, portiamo lo sport nei parchi, nei piccoli comuni, abbiamo messo a terra 480 isole di sport, portiamo lo sport in carcere, abbiamo iniziato la scorsa settimana a Casal del Marmo. Ecco perché siamo felici di essere qui tutti insieme per promuovere una visione sociale dello sport. Lo sport è salute e qualità della vita, è benessere ma soprattutto un valore sociale e morale, uno strumento di crescita formativa ed educativa dei nostri giovani.